Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Times Square Sport, ovvero Sport Square, come amiamo chiamarla noi della redazione di Ago News. Tante le notizie da verificare oggi, da approfondire. Una su tutte è in corso d'opera la partita, il match clou del campionato della venticinquesima giornata del campionato tra la Roma e la Juventus. Diciamo subito che il parziale, quando siamo arrivati al settantasesimo dell'incontro, è di 1-0 per la Juventus, Corsara per il momento all'Olimpico con gol di Tevez. Presento subito gli ospiti, iniziando come di consuetudine dal direttore di Ago News Giancarlo Padovan. Ciao Giancarlo. Buonasera Luca, buonasera a tutti i telespettatori. In studio abbiamo anche oggi un amico, un collega, che è Herald Codelli della redazione sportiva di Ago Channel Albania. Ciao Herald. Ciao buonasera. Ciao Herald e benvenuto. Intanto c'è un aggiornamento e te lo dico subito Giancarlo, c'è il pareggio della Roma. Pareggio della Roma? Pareggio della Roma con Keita. Con Keita il pareggio quindi dei giallorossi 1-1, quindi il risultato quando mancano poco più di 10 minuti alla fine del match. Quindi Juventus passata in vantaggio con, possiamo dirlo, un capolavoro di Tevez, un calcio di punizione Giancarlo la del Piero se vogliamo. Sì, o alla Pirlo come si vuol dire. Un bel calcio di punizione, un bel tiro. Sicuramente a quel punto la partita a me sembrava chiusa, avrei detto che sarebbe stata chiusa, perché il calcio di punizione era stato generato da un fallo di Torosidis che è stato espulso per somma di ammunizione e quindi la partita 1-0, 11 contro 10, non pensavo mai che la Juve si facesse raggiungere. Il fatto che si faccia raggiungere è testimonia di due fatti. Uno che la Roma è finalmente svegliata dal torpore che l'ha assistita quasi per 80 minuti, non ha fatto quasi nulla. E due, che la Juve forse si credeva padrona della partita, del campionato e non bisogna mai fare questi peccati. E in questo quarto d'ora che ci separa dalla fine della partita lo passeremo insieme ovviamente agli ospiti in studio. Herald mi ha confessato che è anche tifoso della Juventus, ma ne parleremo dopo perché dobbiamo presentare anche l'ospite che abbiamo collegato in Skype, che è il collega Enzo Bucchioni di Quotidiano Nazionale. Ciao Enzo, buona serata anche a te. Buonasera a voi, ben ritrovati. Ciao a tutti dall'Adriatico. Ben trovato, ben trovato anche a te. Enzo, anche a te questo pareggio della Roma. La Roma che fondamentalmente abbiamo visto la partita, la vediamo qua sui nostri monitor, non è che ha fatto tantissimo. Ha spinto un po' più la Juventus, ha meritato sicuramente il vantaggio, poi si è fatta riprendere. Un tuo primo commento? Guarda, io ero talmente convinto che la partita fosse finita, che oggi ho mandato il pezzo al giornale che ora farò correggere naturalmente. È stata una partita non giocata dalla Roma. Io mi aspettavo sinceramente molto di più perché questa era l'ultima occasione per poter provare a dare l'assalto alla Juventus. Invece questa è una squadra che non è cresciuta rispetto all'anno scorso, è diventata più prevedibile. I due esterni, parlo di Gervinio soprattutto, che l'anno scorso erano un'ira di Dio, non hanno più quella forza e quell'esplosività. E quindi la Juventus ha congelato questa gara come ha voluto. È andata in vantaggio con questo gol alla Pirlo, firmato da Tevez, che ha più o meno i piedi uguali e se non ci fosse Pirlo magari chissà quante punizioni avrebbe segnato anche lui. E poi probabilmente ha capito, cioè ha capito, ha sbagliato a pensare di avere chiuso qui il campionato andando a più 12 e si è fatta raggiungere con questo colpo di testa, con la difesa posizionata male. Ma comunque per lo scudetto non ce n'è. Se la Roma stasera non recupera a qualche punto è il quarto scudetto della Juventus e è sancito automaticamente. Erald Enzo ha detto una cosa giustissima, abbiamo visto le immagini, difesa poco piazzata della Juventus. Buffon se l'è presa un po' con tutto il pacchetto arretrato, specialmente nell'azione successiva quando Manolas ha provato a tirare in porta ancora con la difesa spiazzata. Può un gol secondo te destabilizzare? Un gol può destabilizzare assolutamente, anche tenendo in conto che la Roma anche se gioca in 10 darà battaglia fino alla fine perché questa è l'ultima occasione, questa è la partita di un'intera stagione che segnerà un'intera stagione. Anche il pareggio li sta stretto alla Roma e quindi credo che proveranno fino alla fine magari anche a vincere, a segnare anche perché la difesa della Juventus l'abbiamo già vista in Champions che non ha più quella sicurezza di qualche settimana fa e anche la Juventus non ha più la sicurezza in trasferta perché è riduce da due pareggi in questa partita all'Olimpico e anche se un pareggio alla Juve sarebbe benissimo nella situazione senza Pirlo in campo con Pogba infortunato in panchina e così via, con Vidal che non è al massimo della forma e ha giocato secondo me, secondo un tifoso a Juventino una brutta partita. Io intanto faccio pubblica ammenda perché ho preso il greco sbagliato, prima nella fretta Manolas è stato espulso proprio nell'azione del calcio di punizione che ha portato la Juventus in vantaggio, era Ole Bass, colui che ha tirato in porta poco fa. L'espulso a me sembrava Torosidis, chiedo Venia io, ho detto prima Torosidis, per me Torosidis è espulso. Adesso andremo anche a controllare, è un po' difficile controllare con le agenzie qua in diretta, comunque poi lo controlleremo meglio. In ogni caso Giancarlo, un pareggio, adesso vedremo come andrà a finire, mancano poco meno di dieci minuti alla fine, se pareggio sarà cambia poco nel campionato. Se pareggio sarà cambia poco, però attenzione che un gol, come ha detto Herald, cambia il corso non solo di una partita ma anche di una stagione. Io siamo passati tutti, abbiamo sentito anche Enzo, dal dire che lo scudetto era assegnato e adesso stiamo invece scoprendo che la Roma può addirittura vincere la partita. Allora se vince la partita, perché l'ha pareggiata in dieci, può anche vincerla, allora tutto cambia, vedete il calcio non ci lascia, come dire, respirare o pensare addirittura, perché 12 punti sembravano incolmabili, in pochi minuti sono tornati a essere nove. È vero che cambia poco se sarà pareggio, ma io prima di dire che sarà pareggio voglio aspettare la fine. E aspettiamo, aspettiamo la fine, stiamo monitorando ovviamente anche il live della partita. Enzo Bucchioni, all'inizio del match stavamo guardando, è sembrato che la Juventus fosse scesa in campo all'Olimpico soprattutto per badare a non prendere, soprattutto per badare a un pareggio, sbaglio? Sei d'accordo? Assolutamente, del resto la Juventus aveva due risultati a disposizione, il pareggio la vittoria chiaramente ha cercato di fare la partita alla Roma, di chiudere gli spazi e poi di ripartire in contropiede, giochino che gli è riuscito abbastanza bene, perché un paio di volte la Juve è partita ed è stata molto pericolosa. La Roma ha trovato un muro davanti e non è stata in grado di giocare perché il suo ritmo è troppo lento, ritmi bassi, senza sovrapposizioni, senza movimento dei giocatori senza palla e quindi la Roma è stata incapace di attaccare in maniera seria questa Juventus. La gara è stata assolutamente preparata così da Allegri, pensando poi come ha fatto di accelerare un pochino i ritmi nella ripresa quando la Roma anche mentalmente è calata, si trovava di fronte all'impossibilità di costruire e naturalmente con il passare dei minuti la Roma è diventata quasi impotente di fronte alla montagna chiamata Juventus. E quindi io sono doppiamente sorpreso da questo calo finale di una squadra così esperta, così importante come la Juventus, che si lascia andare a un risultato non ancora chiuso e cala di concentrazione in maniera vistosissima perché il gol è un calo assoluto di concentrazione. L'atteggiamento che sta tenendo adesso altrettanto e se non recupera un minimo di assetto in tempi molto rapidi c'è il rischio veramente che nel forcing finale la Roma riesca anche a portare via il risultato pieno. Erald, ti voglio chiedere questo, guardo il tabellino al momento, mi porta quattro ammoniti per la Juventus, tre ammoniti e un espulso per la Roma, segno di una partita combattuta e sicuramente una partita dove c'è molta credine tra le due squadre. Tu sei a capo della redazione sportiva di Diagon Channel Albania, è arrivata anche in Albania la notizia che Juventus e Roma non si amano per niente, vero? No, la Juventus e la Roma non si amano per niente, anzi i tifosi della Roma direi detestano di più la Juventus che la Lazio, la squadra della loro città, la rivale della loro città. Ci si aspettava una partita così combattuta, una guerra perché c'è in palio un'intera stagione, c'è in palio lo scudetto e quindi era quasi normale, però la Roma è partita subito aggressiva e mi aspettavo, è giusto che qua si sta discutendo, mi aspettavo una squadra non soltanto aggressiva, però anche una squadra che correva, una squadra che si sacrificava, però penso che quando Pjanic non funziona e quando Gervinio va bloccato nel modo in cui l'ha fatto Caceres, la Roma si trova davvero in difficoltà. E' proprio questa Giancarlo la chiave tattica, quello che diceva Erald, Gervinio bloccato che è veramente un'irà di Dio e lì davanti e soprattutto bloccare i rifornimenti con Pjanic, Allegri ha azzeccato almeno in parte la ricetta giusta. Devo dire che sicuramente è azzeccata ma bisogna anche ammettere che non è il primo, Allegri ad avere capito queste difficoltà, che bloccando queste fonti di gioco probabilmente la Roma si sarebbe ridimensionata, di fatti la Roma quest'anno non ha sorpreso soprattutto con Gervinio e con Pjanic esattamente come sorprendeva l'anno scorso, molto molto si doveva e ci si aspettava dai Turbe, ma i Turbe ha giocato bene, tu ami dire, un paio di partite, no, forse neanche, ha giocato bene poche partite, è stato per ora un investimento che non corrisponde al valore effettivo, però è un giocatore sul quale bisogna insistere naturalmente. Diciamo non un flop perché assolutamente no, però è ancora un giovanissimo, però i soldi forse non sono stati spesi benissimo per il valore di Turbe. Enzo, come giudichi il marcia indietro, la retromarcia di García in conferenza stampa, quando ha fatto pubblica ammenda sulle dichiarazioni un po' troppo avventate di inizio campionato, vinceremo lo scudetto, vinceremo questo e vinceremo quell'altro? Ma io se posso consiglierei a García di prendersi un portavoce o qualcuno che gli curi la comunicazione, perché quest'anno sinceramente è stato un disastro, un disastro l'estate scorsa quando ha cominciato a proclamare vinciamo lo scudetto, un secondo disastro dopo la partita con la Juventus, il violino che è stato un gesto comunicativo molto forte, tutte le polemiche che ci sono state, si è fatto secondo me coinvolgere dalla romanità, che va benissimo per i tifosi, va benissimo per un certo ambiente, ma un allenatore della Roma si deve astrarre da queste situazioni, deve prendere le distanze culturalmente soprattutto e anche nella dialettica, perché altrimenti si mette a livello dei tifosi. Ora la marcia indietro gli è stata probabilmente imposta dalla società che ha cercato alla vigia di questa partita di rimensionare un po' le tensioni che ci sono state all'andata per evitare che ci fossero degli strassici che poi potevano compromettere sia la serata, sia i rapporti fra le due società che ricordiamolo sono molto buone anche in virtù dell'opposizione che fanno al Presidente federale. Quindi molte situazioni che danno l'idea che Garciabi ha perso un pochino il controllo della situazione e del resto si vede la squadra come sta giocando. Non c'è più quell'unità che dallo scorso esprimeva questa squadra. Ora c'è stato il ritorno al potere di Totti e De Rossi che per quello che ne so io stasera hanno imposto la formazione che volevano loro. Insomma siamo tornati alla vecchia Roma dei tempi passati che ci prova ma non riesce a vincere perché dentro succede sempre qualcosa. Vedi Giancarlo, stava quasi per smentirti i turbe perché c'è stata un'azione poco fa in area di rigore. Non mi smentisce con un'azione. Assolutamente sì, bloccato. Con una stagione. Ecco perché mi par di ricordare, e correggetemi se sbaglio naturalmente, che la cifra complessiva è intorno ai 30 milioni. Sì esatto. 30 milioni di euro non basta un'azione magari bella o decisiva contro la Juventus. Comunque l'importante è dire che la partita non è ancora finita e che la Roma è lì. Io non capisco davvero come non capisce Enzo come una squadra, lasciamo stare esperta, ma che è in vantaggio, che ha un uomo in più, che riesca a subire il ritorno mentale e nevratile della Roma. La Roma si è svegliata solo quando è rimasta in 10. Prima non è esistita. Sono tre. Cosa è successo? Sono tre i minuti di recupero. No, no, no. Sono tre i minuti di recupero. È stata fermata la Juventus, adesso proprio al primo minuto di recupero in fuorigioco. Herald, la scelta di fare un po' pretattica da parte di Allegri, vi dalle sì, vi dalle no, vi dalle un po' il fulcro del centrocampo della Juventus, è stata veramente solo pretattica oppure Allegri, secondo te, ci ha pensato a non farlo scendere in campo fino all'ultimo? Ma in Italia e nel calcio italiano ci sono e ci sono tante scelte pretattiche oppure dichiarazioni che questo giocatore chiave non giocherà, però Vidal ha mostrato nel campo che non era nella forma ottimale, veniva da un infortunio e quindi non dobbiamo scordarci anche che questo è il momento chiave della stagione, il marzo, perché si giocano le partite del campionato, il calendario è abbastanza... le partite si giocano ogni tre giorni, si giocano le partite in Champions e la Juve, secondo me, è più concentrata in Champions anche perché ha il lusso di avere un vantaggio di più nove dalla Roma, dalla seconda, e Vidal però ha mostrato nel campo che non era forse al massimo e forse ci poteva stare anche in panchina. Pericoloso Gervinio all'ottantanovesimo, quindi un minuto fa, un minuto prima proprio Vidal invece è stato ammonito, quindi entra anche lui nella lavagna dei cattivi, segno di una partita veramente comunque combattuta e sentita. Io non ho visto onestamente cattiveria, a parte all'inizio un paio di falli intimidatori, ma in generale, che l'arbitro non l'ha sanzionato, però in generale ho visto correttezza e non mi pare che ci sia... c'è molta credine fra le tifoserie, ma diversamente fra i giocatori mi pare che ci sia rispetto. La partita è stata una partita giocata, il primo tempo sicuramente dalla Juve e non dalla Roma, il secondo tempo è stato mozzato da quell'espulsione e poi abbiamo avuto il finale, il finale è imprevedibile, insomma, perché ripeto, 10 contro 11, 1 a 0, anzi 11 contro 10, 1 a 0, la partita deve essere finita, insomma. Deve esserlo in tutti i sensi, se non lo è vuol dire che la Juve, come ha detto Herald, ha più la testa alla Champions che al campionato. È vero che se lo può permettere, ma non è mai un buon segno. E allora lo diamo per ufficiale, finita la partita, finito questo Monday Night del 25esima del campionato, 1 a 1 il risultato tra Juventus e Roma. Bucchioni, in classifica non cambia nulla. No, io mi sento di dire, anche se mancano 12 domeniche, 12 partite per la verità con questa spalmatura, al quale siamo abituati, è che la Juventus ha vinto lo scudetto questa sera, perché come dicevo aveva due risultati a disposizione, anche il pareggio tiene la Roma a distanza di 9 punti e questa Roma non ha più la forza né fisica né mentale per cercare di fare la rimonta. Dovrebbe esserci un crollo verticale della Juventus, ma non oso immaginarlo, perché una squadra come questa può tranquillamente gestire da qui alla fine. È vero che ha tre impegni ancora giovedì, fra l'altro deve giocare con la Fiorentina alla semifinale d'andata della Coppa Italia, probabilmente un po' di turnover a Lega, l'ha fatto anche pensando a questo impegno, però mi sembra di una caratura assolutamente superiore, anzi è di una caratura superiore sia dal punto di vista tecnico che dell'organico e anche della mentalità, a parte quel quarto d'ora di questa sera che ci ha sorpreso e che poteva definitivamente chiudere tutti i giochi, anche se io credo che siano assolutamente fatti lo stesso. Giancarlo, Enzo sicuramente ha ragione, serve proprio la debacle totale di una Juventus. Ha ragione, ma le debacle ci sono state in passato, hanno riguardato squadre come la Lazio e anche come la stessa Juventus, in quel caso a beneficio della Lazio, a otto giornate dalla fine, se non mi sbaglio nel campionato vinto dalla Lazio poi a Perugia, tanto per capirci. Il 2000. Esattamente, allenatore Ancelotti della Juventus, a otto giornate dalla fine o a nove giornate dalla fine, a otto punti di vantaggio, non mi ricordo se otto e nove i punti o il contrario, ma insomma vantaggio ragguardevole, la Juve perde lo scontro diretto con la Lazio e poi crolla verticalmente, non ne aveva letteralmente più. è perso un campionato con giocatori come Zidane, come Davids, voglio dire sto parlando di giocatori dalla caratura tecnica, atletica nettamente superiore a questa, quindi Enzo in linea di massima ha ragione, però ne ho viste tante e anche lui ne ha viste tante. Sì, l'abbiamo viste tante. Sai cosa mi ha fatto dire, se posso intervenire, questa cosa un po' drastica? Perché vedo una Roma che non ha le qualità per cercare una rimonta, mentre quella Lazio lì, quelle squadre lì che hai citato, erano in ascesa, stava crescendo un qualcosa, uno spirito di squadra. Qui mi sembra che il progetto stia svanendo fra le mani di García e diventa tutto molto difficile. Erald, ti voglio chiedere questo. Io proprio perché sapevo che c'eri tu ospite in studio oggi, mi sono scaricato un'inchiesta, una cosa che ha fatto la Gazzetta questa mattina. Roma-Juventus, il mondo ti fa così. Anche in Albania c'è una buona percentuale di tifosi juventini? Assolutamente. Qua in Albania succede una cosa che non succede forse da nessun'altra parte del mondo, che un tifoso, un vero tifoso, può amare fino a quattro squadre. La sua squadra qua nel campionato albanese, la sua nazionale, un'altra nazionale, l'Italia, il maggior numero dei tifosi albanesi stimano l'Italia, però anche le altre nazionali, e un'altra squadra di club. Però visto che quasi tutti qua in Albania sono cresciuti e hanno vissuto con il calcio italiano, con la Serie A, quasi tutti i tifosi sono della Juve, del Milan, ci sono tantissimi, e anche dell'Inter. Però ci si può trovare anche qualche tifoso della Roma, te l'hai trovato uno qua nell'Agon, nell'Agon albanese. Il mitico Vittor. Il mitico Vittor, sì. Anche qualche tifoso perfino della Lazio, del Genoa e anche del Torino. Quindi ci sono tanti tifosi. Giancarlo, a dimostrazione di quanto la Juventus comunque sia una squadra che fa innamorare i cuori di diversi tifosi in tutto il mondo, ti do una statistica che sa dell'incredibile, non la sapevo neanche io, l'ho letta oggi. Il 94% delle preferenze va ai bianconeri in Cambogia. Sai, le statistiche, dicevano alcuni saggi, sono al 70% false, compresa questa. No, è un modo ovviamente paradossale di smentire certe statistiche. Io non so su che basi in Cambogia si possa stabilire che il 97% delle preferenze sia la Juventus. Però ogni tanto c'è qualche intelligentone che ce lo vuole far credere. Certamente la Juve ha molti tifosi in tutte le parti del mondo, ma è abbastanza ovvio, essendo una squadra leader in Italia, un campionato che era sicuramente un campionato importante, che ancora lo è, ma tecnicamente meno avvincente. E una squadra nella quale hanno giocato grandissimi campioni, insomma, da Boniperti a Charles, a Sivori, a Platini, a Del Piero. Quindi l'identificazione non è poi così peregrina. Noi siamo a ridosso della pubblicità. Volevo fare una domanda ad Herald, che poi coinvolge ovviamente anche voi, te in studio, Giancarlo e anche Enzo, che hai collegato via Skype. Hai parlato di nazionale, nazionale albanese. Io noto che in Albania c'è un amore sconsiderato veramente verso la propria nazionale, cosa che magari non c'è in Italia, cosa che magari non c'è in altri paesi. In Albania la nazionale è un qualcosa che va oltre. Forse l'Albania deve insegnare qualcosa ai tifosi degli altri paesi? Sì, penso assolutamente di sì, che almeno su qualche punto di vista l'Albania deve insegnare qualcosa ai tifosi, non soltanto in Italia, però dappertutto nel mondo. È vero che l'amore qua in Albania per la nazionale è grandissimo. Gli esempi sono tutte le partite che la nazionale albanese gioca qua in casa, però anche le partite che la nazionale gioca in trasferta. In Svizzera lo stadio è stato stracolmo di albanesi, la stessa cosa l'abbiamo vista nell'amichevole di Genoa con l'Italia e quindi è un amore senza compromessi, è un amore verso un sogno, il sogno di partecipare per la prima volta in un torneo maggiore all'europeo, al mondiale, all'europeo forse all'europeo 2016 forse abbiamo qualche chance e l'entusiasmo è ancora più grande. Anche perché c'è un fatto antropologico, gli albanesi nel mondo sono chi dice 7, chi dice 10 milioni, chi dice addirittura di più. Anche più di 10. Anche più di 10, esatto, chi dice ancora più di 10. E si trovano ovunque nel mondo, quindi in qualsiasi parte la nazionale albanese vada a giocare è un simbolo di aggregazione ed identità, perché gli albanesi sono ovunque. Primo. Seconda cosa, io dico che l'amore è dovuto anche al fatto che si spinge questa nazionale verso un traguardo e io dico che il traguardo potrebbe essere l'europeo del 2016 perché nonostante un girone difficile, il più difficile di tutti, la nazionale è partita bene e prima o poi dovrebbe riavere quei tre punti che le sono state sottratti arbitrariamente dall'UEFA dopo i fatti di Belgrado. E invece noi in Italia facciamo fatica a organizzare quasi una partita nazionale in una città sola, magari nella capitale o nelle altre città importanti. Tanti gli argomenti da sviscerare anche nella seconda parte di Sports Square, parleremo ovviamente ancora di campionato, quali scenari si possono aprire dopo questo pareggio tra Juventus e Roma, lo abbiamo già detto ma lo ribadiremo anche dopo. Dobbiamo parlare anche della crisi del Parma, ci sono delle novità, ha parlato Beretta questa mattina, sono stati convocati... Le risibili parole di Beretta, le risibili parole di Beretta. Le commenteremo dopo, ha parlato anche Pizzarotti, il sindaco di Parma, parleremo di Manenti che anche lì sono situazioni abbastanza risibili del proprietario del Parma, insomma tante cose, tanta carne al fuoco, ne parleremo subito dopo la pubblicità, tra poco. Tanto stavo guardando come si stava completando la classifica, Juventus 58, Roma 49, Napoli 45, Lazio 43. Questa Lazio, Giancarlo, zitta zitta, piano piano, passetto alla volta, sta raggiungendo le zone importanti. La Lazio è a sei punti dalla Roma e io credo che i laziali guardino a quello, però molto più razionalmente devono guardare alla posizione del Napoli, il Napoli ha perso ieri a Torino, è stata una brusca frenata, questo darà fiato ed energia alla Lazio. Ora bisogna vedere se anche la Lazio ha la malattia del Napoli e in parte la malattia della Roma. Qual è questa malattia che colpisce le squadre che inseguono? Quella di mancare sempre il salto di qualità quando glielo si chiede. Così, la Roma ha mancato il salto di qualità quando ha dovuto essere l'antagonista numero uno della Juve e raggiungerla sul piano della continuità e dei risultati. Il Napoli ha mancato l'aggancio ieri alla Roma perché la Roma avrebbe giocato questa sera, ma in ogni caso ci sarebbe stato un aggancio virtuale, la Lazio finora è andata bene, ha qualche passaggio a vuoto, adesso non deve sbagliare più perché il Napoli difficilmente sbaglierà. Però è una candidata veramente temibile per gli altri, è autorevole per se stessa per il terzo posto. Secondo te Giancarlo, tornando un po' alla squadra giallorossa, sarà il caso secondo te per la Roma che per detta proprio del suo presidente, di James Pallotta, vuole assolutamente portare un titolo nella capitale? Sfumato il campionato, c'è questa Europa League che si dovrà giocare contro la Fiorentina, pensi sarà proprio questo l'obiettivo da perseguire adesso per i giallorossi? Abbandonato di fatto il campionato stasera? Se il campionato è abbandonato veramente, ma forse ha ragione Enzo a dire che la squadra è un pochino scarica, sì, certo, io penso che l'Europa League sia un obiettivo importante, intanto perché ti dà una dimensione europea che altrimenti non avresti, perché se arrivi secondo in campionato, vabbè, hai fatto il solito campionato, magari buono ma insoddisfacente alla fine. Mentre se vinci l'Europa League conquisti un trofeo significativo, importante, che per Pallotta sarebbe il primo, e vai direttamente in Champions. Ora, la Roma probabilmente ci va lo stesso, però si taglia la testa al toro, insomma, no? Io dico però che arrivare primi in Europa League è complicato, è già complicata la partita con la Fiorentina, bisogna vedere quante riserve mentali ha in questo momento la Roma e quante energie ha ancora da spendere sul piano fisico, perché la squadra, l'abbiamo già detto altre volte, Luca, tu te lo ricorderai, i nostri telespettatori pure, abbiamo parlato di una preparazione atletica che qualche volta ha mostrato la corda, i troppi infortunati ne sono una testimonianza tangibile. Giro la stessa domanda anche a Enzo Bucchioni, che è collegato con noi via Skype. Enzo, secondo te la Roma ormai è abbandonata, di fatto questa lotta a Scudetto dovrà concentrarsi per forza su questa sfida, doppia sfida, contro la Fiorentina in Europa League e sperare di arrivare alla finale? Ma di sicuro, perché sono assolutamente consci che questi nove punti sono un'enormità. dovrebbero avere all'interno dei valori tecnici, ma anche morali, che in questo momento sinceramente non vedo. Mentre la partita con la Fiorentina è alla portata, anche se ricordiamolo che 15 giorni fa la stessa Roma è stata eliminata dalla Coppa Italia, proprio dalla Fiorentina. Quindi uno scontro che in questo momento, io dico alla Fari, ma vedendola quotidianamente come evolve la situazione all'interno della Fiorentina, io dico che in questo momento la squadra più in forma del campionato è proprio la squadra di Montella, che ha trovato un giocatore straordinario, che si chiama Salah, che è in grado, uno dei pochi in questo campionato, che è in grado di cambiare il corso di una partita da solo, di spaccare una partita, e l'ha dimostrato in queste poche gare che ha giocato con la Maglia Viola, andando a segno tre volte in campionato e una volta in Europa League. Mi chiedo come mai il Chelsea vi ha lasciato partire un giocatore di questo tipo, però la Fiorentina, che è a un punto della Lazio, io la metterei nel novero di queste squadre che possono ancora competere per il terzo posto, che sono ovviamente il Napoli, ovviamente la Roma, perché se dovesse scendere tra il secondo e il terzo, la Fiorentina e la Lazio sicuramente, ecco, sono quattro le squadre, io non limiterei a tre il novero delle favorite per quei posti che contano. Ecco, l'opera è proprio di Salah, Erald, Salah è stato messo sul mercato dal Chelsea, lo doveva prendere proprio la Roma, la Roma non l'ha più voluto, è stata più lungimirante sicuramente la Fiorentina. La Fiorentina ha fatto il colpo del mercato di gennaio in Italia, perché non soltanto che ha venduto quadrato a un prezzo abbastanza alto, abbastanza alto anche per le casse della Fiorentina, però ha preso questo Salah che non c'aveva tanti spazi nel Chelsea, però che nella Serie A si è adattato immediatamente ed è risultato decisivo per la Fiorentina, per la squadra di Montella, che in questo punto del campionato, vedendo tutte le partite da settimana a settimana, penso che la Fiorentina sia anche una candidata seria per il secondo posto della Roma, perché la Roma addirittura, non soltanto per il terzo posto del Napoli, perché la Roma non vincendo oggi non ha potuto riaprire la gara per lo Scudetto, però anche rischia il secondo posto, secondo me. Perché una squadra che non vince da sei giornate all'Olimpico in casa dal novembre dell'anno scorso è una squadra che con questa andatura neanche le squadre che lottano per stare nella Serie A. Io ho visto una classifica oggi del girone di ritorno e mi pare che ponga in testa il Torino e il secondo posto proprio la Fiorentina. Non so se mi sono sbagliato, ma non credo. No, no, è vero, è vero. E quindi sono due squadre, il Torino e la Fiorentina, che stanno andando molto forte. Quello che sorprende della Fiorentina non è solo di aver trovato un Salah che è decisivo, però, appunto, Eralda ha detto bene, il Chelsea era chiuso, l'hanno dato in prestito, perché evidentemente credono nelle sue qualità, e il Chelsea si è preso quadrato. Però nel momento in cui ha rinunciato a quadrato, la Fiorentina, per paradosso, nel calcio ogni tanto ci sono questi romanzi, è diventata più forte, è diventata più continua, è diventata forse anche meno dipendente da lui, è diventata più squadra. Ieri poi le cose sono andate anche bene, devo dire che i due allenatori mi hanno sorpreso, questo lo devo dire Enzo, sai quanta sia la mia passione per gli allenatori, ma non posso vedere uno Mancini che non riesce a raddrizzare la partita, prima in 11 contro 10 e poi in 11 contro 9, l'altro che non si accorge che c'è un giocatore infortunato e fa il cambio sbagliato, cioè, e poi tutti i salmi finiscono in gloria, almeno per Montella, ma l'errore era Marchiano. Sì, assolutamente, se non avesse vinto questa partita saremmo qui a processarlo, a crocifiggerlo probabilmente, è stato veramente un errore dilettantesco, non c'è alcun dubbio. La Fiorentina, scusa se mi inserisco, ha fatto un'ottima operazione con Salah, perché ha un diritto di riscatto fissato a 15 milioni e ha venduto Quadrado a 32, quindi sicuramente sarà esercitato a giugno questo diritto, ha venduto un giocatore che era ormai prevedibile, trasformava la manovra della Fiorentina in prevedibilità, perché andava sempre per linee orizzontali, mentre questo Salah ha cambiato la Fiorentina perché va negli spazi, in maniera verticale, con grande velocità, e la Fiorentina è diventata più imprevedibile e molto più veloce, quindi ora può giocare in due modi, fare il famoso techi-tacca che ha fatto per due anni, ma anche andare a giocare un calcio più italianista con le ripartenze che è molto più efficace in certe occasioni. Erald, diciamo che per quanto riguarda sia il mercato che la partita di ieri, Salah batte Shachiri, anche se è nazionale svizzero, ma di queste parti è albanese cossovaro, batte Shachiri 1-0. Albanese, un idolo degli albanesi, perché è l'unico albanese che è riuscito a giocare nel Bayern e ha vinto anche la Champions League, un peccato che non giochi per la nostra nazionale, però il Bayern non è che ha venduto Shachiri perché Shachiri non poteva competere con nomi come Ribery e Robben. Shachiri era fuori forma, Shachiri non poteva essere decisivo nel Bayern, così come un solo giocatore non può essere decisivo nell'Inter, perché nell'Inter ci sono tante cose che non funzionano, dalla porta con Andanovic che viene aggiudicato come uno dei migliori portieri al mondo, però che fa delle gaff pazzesche talvolta, una difesa che fa acqua da tutte le parti, un centrocampo senza fantasia e senza la forza di tirare avanti la squadra e quindi Shachiri e nemmeno Podolski, che è stato il più criticato anche dall'opinione sportiva e anche dallo stesso Mancini, non è che potevano trasformare l'intera stagione dell'Inter. E poi io spezzo una lancia per Shachiri, voi sapete quanto sia il legame, forte il legame che ho con l'Albania e con la nazionale, che è allenata da un italiano, tra le altre cose, che si chiama Gianni De Biasi, che abbiamo avuto anche ospite qui a Sports Square, naturalmente. Shachiri ieri è stata la pietra dello scandalo non perché ha giocato male, ma perché non è entrato prima. Cioè l'errore di Mancini è stato quello di puntare tutto su Podolski, che è stato fischiato, criticatissimo. E lo stesso Mancini ha fatto autocritica, deve dare di più e avrei dovuto mettere Shachiri prima, avrei dovuto giocare con Shachiri. Shachiri quando ha giocato ha fatto sempre bene nell'Inter ed è quell'elemento alla Schneider che dietro le punte può dare imprevedibilità al gioco. Noi chiuderemo la nostra trasmissione parlando della crisi del Parma, però, signori, due parole su questa altalenanza di Inter e Milan bisogna dirle. No, sono due squadre indecenti. È un anno un po' particolare questo. Sono due squadre indecenti e nessuna delle due andrà in Europa, né per l'Europa che conta, diciamo la Champions League, né per l'Europa League, secondo me. Enzo, Inter e Milan, una stagione da dimenticare, vero? Sì, assolutamente. Con una diversificazione, però, secondo me, importante. Mentre il Milan non vedi uno straccio di futuro, non sai qual è il progetto, non sai qual è l'attore, se sarà la prossima stagione, se Berlusconi vende o non vende, quindi siamo nella nebbia più assoluta, l'Inter ha ricominciato una ricostruzione nello scorso novembre, prendendo Mancini, prendendo alcuni giocatori importanti e almeno uno straccio di progetto, un'idea che probabilmente si compirà l'anno prossimo, quest'anno ormai è troppo tardi, però almeno c'è uno spartito sul quale lavorare. Quindi, io credo che l'anno prossimo il Milan partirà ancora in queste condizioni, mentre per l'Inter si può profilare un futuro un po' più diverso. Oggi, allo Stato, sono fuori dai giochi tutti e due. Giancarlo, ospite, anche seppur al telefono con noi, c'è Saloserze Cosmi, che ha parlato di una cosa in particolare sugli allenatori, allenatori giovani, che secondo lui dovrebbero fare un po' più di gavetta. Il Milan paga questo scotto, secondo te, aver avuto Inzaghi in panca? Detto che Saloserze Cosmi mi ha rubato l'idea, come diceva il vecchio Pesaola, sicuramente sì. Bisognerebbe fare più gavetta, perché la gavetta vuol dire esperienza, vuol dire conoscenza. Sicuramente il Milan paga le difficoltà della squadra attraverso le difficoltà dell'allenatore, cioè non gioca male perché l'allenatore non è bravo, ma piuttosto mette in difficoltà l'allenatore che, in un momento come questo, ha poche carte da giocare, perché poche carte ha giocato nella sua vita di allenatore. E quindi il problema è il Milan che mette in difficoltà Inzaghi, non Inzaghi che mette in difficoltà il Milan, ma certamente Inzaghi non è l'uomo che può raddrizzarne la rotta. Enzo, invece, per quanto riguarda l'Inter, questo cambio di allenatore in corso d'opera, ha influito questo, secondo te, in questo andamento così altalenante? Di sicuro, è stato cambiato completamente il progetto e il modo di giocare. Sono passati da un allenatore più italianista che privilegiava le ripartenze, una difesa molto solida, anche se con l'Inter non c'è riuscito, però la sua idea di calcio è questa e con la velocità negli spazi hanno preso un allenatore che vede un calcio completamente diverso, più spettacolare, con la squadra che gioca di più nella metà campo avversaria che fa più possesso. Quindi hai dovuto cambiare molti degli interpreti e quindi sei a metà del guado. Mancini, poi, è anche più bravo a farsi comprare i giocatori, evidentemente, è più suadente con chi deve tirare fuori i soldi, ha convinto Tohir a prendere i giocatori importanti, qualcuno che sta recuperando penso a Santonna, penso a Brozovic che è un buon giocatore, penso a Schachiri che sicuramente è un ottimo acquisto che potrà migliorare, Podolski lo restituiranno sicuramente perché è in prestito e sembra un giocatore a fine corsa, quindi non potevi aspettarti che Mancini arrivasse e con la bacchetta magica rimettessi tutto in piedi. È un momento di ricostruzione e le ricostruzioni vanno pagate. L'errore dove è stato? Quello di riconfermare Mazzari l'estate scorsa quando già qualcuno all'interno della società a cominciare da Tohir aveva detto, fatto capire di volere un allenatore più internazionale, più conosciuto nel mondo, con un maggiore carisma e un maggior nome anche da spendere a livello di merchandising, di immagini della società, cosa che Mazzari che è un buon allenatore non aveva. Quindi l'operazione dovevano farla in estate e hanno perso quattro mesi. Erald, il Milan e l'Inter hanno abituato fin troppo bene i propri tifosi nel corso degli anni, quest'anno bene non va. Che idea ti sei fatto tu? Ma la Serie A senza il Milan e l'Inter non ha quel fascino che c'è sempre la Serie A, per di più qua in Albania, però sono due squadre che soffrono. Voi qua avete detto che il Milan non ha un progetto, secondo me c'è il progetto low cost che è il progetto non adatto a una squadra come il Milan, mentre per il progetto dell'Inter sono scettico perché già da oggi si parla di un altro cambio in panca, di un altro cambio dell'allenatore con Bielsa ritornato al centro forse di un progetto futuro dell'Inter. I problemi che tutte e due le squadre hanno avuto con gli allenatori sono stati dei grandi problemi e sono stati trasmessi anche nel campo perché quando si cambia i risultati non sempre vengono subito. Certo, invece vedi Giancarlo parliamo di allenatori, c'è chi parla troppo, c'è chi fa proclami come Garzia e c'è chi invece fa i fatti. Oggi è arrivata adesso un'agenzia oggi pomeriggio e parliamo del Napoli Rafa Benitez ha tenuto più di un'ora la squadra al rapporto dopo la sconfitta di ieri. Sì, però deve tenere al rapporto anche se stesso perché io oggi leggendo i giornali non ho visto la partita del Napoli perlomeno non l'ho vista bene però molti gli imputavano l'esclusione di Gabbiadini e quindi credo che quando poi si perde si perde tutti insieme ha ragione a tenere la squadra a rapporto ma deve riconoscere anche i suoi errori. Chi si è perso un po' per strada Enzo sono la Sampdoria e il Geno erano partite decisamente bene specialmente la Samp poi ultimamente qualcosa non è andato ma effettivamente forse sono forse più forti le altre rispetto a loro. Ma sicuramente il Geno la Sampdoria hanno fatto una striscia di risultati importanti ma non sono squadre attrezzate soprattutto il Geno per rimanere a certi livelli a certe altezze della classifica quindi era inevitabile c'è sempre qualche sorpresa durante la stagione spesso negli ultimi anni era stata l'Udinese poi anche l'Udinese lentamente è scivolata verso un posto della classifica che le compete e quest'anno la corsa la lepre l'hanno fatta a queste due squadre per il Geno ho detto che l'organico non è all'altezza la Sampdoria secondo me ha commesso un errore clamoroso in fase di mercato di gennaio perché c'era una squadra che Mijajlovic aveva trasformato in un gruppo molto unito tutti quanti davano molto di più del loro livello tecnico con un gioco anche accettabile i risultati sono venuti vai a smontare questo giochino prendendo un giocatore come To che a fine corsa che secondo me la Sampdoria non può permettersi in assoluto per lo stipendio che paga e per altre situazioni vai a vendere di giocatori importanti come Gabbiadini come Gastaldello che nello spogliatoio era comunque un punto di riferimento quindi non si interviene secondo me nel mese di gennaio in una squadra che funziona l'hanno fatta e hanno pagato con risultati incerti la vittoria di ieri è venuta più per demerito secondo me dell'Atalanta che è scomparsa dal campo nel secondo tempo che non merita la Sampdoria quindi questo giustifica un po' questo momento incerto delle due geroviso invece Giancarlo c'è chi esulta l'abbiamo nominato prima al Torino che è primo in questa speciale classifica che hai letto oggi negli occhi dei tifosi più che la partita di campionato c'è la notte di Bilbao per quanto riguarda il Toro sì credo che sia stata la notte perfetta del Torino una partita bella perché difficile bella perché vinta giocando bella perché il Toro ha un'idea come dà sempre un'idea sfortunata di se stesso invece è stato bello non fortunato però vincente ecco finalmente vincente e credo che i meriti del Toro si siano visti ieri quando con le fatiche di Bilbao è riuscito a battere anche il Napoli e per 70 minuti essendogli nettamente superiore intanto ci avviciniamo poi a parlare anche del Parma c'è un'ultima ora riguarda proprio la UEFA la UEFA ha aperto un'inchiesta sui fatti di Roma di Feyenoord Roma la banana lanciata in campo all'indirizzo di Gervinio ma non soltanto questo sotto inchiesta ai tifosi del Feyenoord sotto inchiesta anche l'Iaic dopo il gol al Feyenoord ha fatto dei gestacci verso i tifosi del Feyenoord è stato messo sotto inchiesta anche lui ci sta sì è tutto è tutto normale è tutto eccessivo voglio dire perché dopo i fatti di Roma credo che l'UEFA è vero che i fatti non si sono svolte allo stadio è vero che i fatti non hanno provocato morti e feriti come ha detto il questore però insomma bisogna anche capire che quella partita era una partita che andava come dire monitorata meglio sia dalle forze dell'ordine e l'abbiamo detto proprio qui sia anche da l'UEFA stessa che doveva metterla come una partita a rischio e allora cominciamo a entrare nel pianeta Parma gli ultimi dieci minuti di trasmissione li dedichiamo proprio a questa crisi societaria di un paro ormai praticamente condannato è spacciato alla meglio alla serie B bisogna vedere alla peggio ai dilettanti effettivamente lo facciamo introducendo l'argomento con un servizio dovrebbe essere già pronto in regia se mi danno l'ok c'è una scheda proprio su Manenti e le ultime dichiarazioni del nuovo presidente acquirente a un euro del Parma Manenti la scheda di Silvia Malagnini vediamola forti quelle del presidente del Parma Gian Pietro Manenti che ha manifestato l'intenzione di voler vendere la squadra al miglior offerente Parma è diventata una città invivibile queste le parole di Manenti reduce dall'aggressione del 27 febbraio da parte dei tifosi dopo l'incontro col sindaco della città e dalla recente sanzione da 1900 euro che grava sulla sua auto per multe non pagate ha le idee confuse lui resta ma vendono la squadra commenta così le dichiarazioni con il sindaco di Parma Pizzarotti giorni fa aveva posto dubbi sulla professionalità dell'uomo paragonando la sua gestione della squadra ad un'impresa gastronomica in una situazione di precarietà evidente circa 80 milioni di debiti la squadra che da 7 mesi non vede uno stipendio e non gioca intanto i tifosi a Carpendolo città dell'ex presidente della società Ghirardi sfilano muniti di bar e ceri per inscenarne il funerale solo poche ore fa si vocifera un interesse da parte della società Segaffredo Zanetti un altro capitolo sulla lunga serie di puntate della telenovela giallo-blu telenovela giallo-blu è proprio di questo si tratta il sindaco Pizzarotti fa sapere che può fare da mediatore tra l'associazione italiana calciatori la Lega e la FIGC ma quello che fa discutere Giancarlo sono stamattina le dichiarazioni del presidente della Lega Beretta sua inesistenza non sua emittenza sua inesistenza Beretta che tra le cose che ha detto critiche ingenerose Lega e Federazione non hanno responsabilità sulla crisi del Parma il torneo è regolare il torneo è fortemente regolare le responsabilità della Lega e Federazione sono enormi perché la Lega è l'associazione che riunisce tutte le società vigila sulla regolarità del campionato lo organizza e verifica i bilanci la Covisoc dà dopo il parere favorevole della Lega Covisoc comitato di vigilanza di controllo della Federcalcio dà l'ok per l'iscrizione al campionato quindi il Parma con quella montagna di debiti che è stato detto come è stato detto nella scheda ma la scheda è stata benevola perché i debiti sono oltre 100 milioni addirittura quasi 200 milioni ma ovviamente quando si entra in questi meandri non si sa mai si sa da dove si parte ma non si sa mai dove si arriva una società in quelle condizioni non poteva essere iscritta al campionato del resto la federazione e la Lega di riflesso lo sapeva perché la federazione aveva impedito al Parma di iscriversi non gli aveva concesso la licenza UEFA per iscriversi all'Europa League perché? perché il Parma risultava inadempiente per 300 mila euro non pagate di IRPEF quindi c'erano tutte le avvisaglie e tutti dovevano conoscere i conti se non li conoscono è una colpa grave è un'omissione grave di colpa quindi non so di cosa blatteri francamente Beretta Enzo a margine delle dichiarazioni di Beretta ci sono anche quelle di Malagò Beretta dice noi alla FIGC non abbiamo colpe invece Malagò chiede ad alta voce i responsabili di questo affaire Parma ma si ha ragione Malagò anche se tardivo apprezziamo questo suo intervento questi signori se avessero un minimo di dignità parlo di Beretta ma anche di Tavecchio soprattutto Beretta perché Tavecchio all'epoca non c'era dovrebbero dimettersi immediatamente perché la situazione del Parma come diceva Giancarlo la conoscevano tutti non soltanto Parma ma io chiedo dico un'altra cosa la Lega non sapeva che il Parma aveva tesserato 250 giocatori non è venuto a nessuno il sospetto perché i tesseramenti vanno fatti in Lega non è venuto a nessuno il sospetto che questi 250 giocatori poi sparsi come Coriandoli in mezzo a Europa in squadre di Serie B di Serie C o quant'altro potessero servire in qualche modo a fare plus valenze o minus valenze di questi conti devastati e devastanti che probabilmente nessuno guardava da anni se non il Presidente che non so dove l'abbia messo questi soldi e sicuramente è stata una gestione scellerata perché il Parma non più tardi dell'estate scorsa ha venduto a caro prezzo dei giocatori importanti come si faccia a fare un buco di questo genere e chi doveva controllare non l'ha controllato quindi chiedere le dimissioni del Presidente Beretta mi sembra il minimo che si deve fare ma qui siamo in presenza di Barzellette ma vi immaginate questo Manenti che va lì a comprare per un euro il Parma e nessuno gli chiede ma chi sei e glielo impedisce perché soltanto in Italia succedono queste cose ricordate cosa ha fatto il Presidente del Cagliari Cellino quando è andato a comprare il Litz l'hanno messo sotto inchiesta per due mesi prima di lì di si può comprare il Litz trattasi di organizzazioni in paesi seri che siamo a livello di Barzelletta il Manenti mi ha fatto venire in mente il film di Totò quando voleva vendere la fontana di Tre Totò Truffa siamo a questi livelli siamo a livelli di macchiette ti prego solo di moderare i termini non come minaccia perché i personaggi come Manenti secondo me non vedono l'ora di potersi attaccare a una mezza parola perché sono i personaggi che non hanno né arte né parte pensa che questo Manenti due anni fa o l'anno scorso doveva comprare il Brescia e diceva le stesse cose che ha detto a Parma un anno dopo i bonifici sono partiti stanno arrivando li stiamo ancora aspettando sia quelli di Brescia sia quelli di Parma poi hai detto bene no hai detto bene scusa a proposito di una cosa come ha fatto Ghirardi e Leonardo come hanno fatto a fare un buco del genere adesso su questo sta indagando la procura della Repubblica io non so come vada a finire spero per loro bene ma quando indaga la procura c'è anche l'ipotesi che il reato sia di bancarotta fraudolenta ipotesi ipotesi per ora non c'è ma l'ipotesi giornalistica c'è e staremo a vedere io intanto ringrazio no ma Macchiette scusa Macchiette non era Manenti ma erano i signori che dovrebbero sorvegliare Manenti fa il suo è borderline e sapevamo già come si sarebbe comportato Enzo siamo in chiusura io ti ringrazio per questo collegamento e ti do appuntamento alle prossime volte grazie grazie a Enzo Bucchioni di Quotidiano Nazionale ciao Enzo grazie è una cosa è una cosa certa per conclusione non si può continuare a rinviare così le partite anche perché queste partite non c'è nessuna ragione per rinviare sono partite che vanno date e perse il panno ad essere escluso al campionato esatto siamo in chiusura Giancarlo grazie grazie a voi un saluto a tutti i telespettatori grazie Herald grazie a voi ti seguiamo sullo streaming di Agon Channel Albania per quanto riguarda lo sport sempre preciso e puntuale grazie spero di averti ospite anche altre volte da parte mia abbiamo concluso io vi do appuntamento ai prossimi Sport Square ai prossimi Time Square ovvero gli approfondimenti sia sportivi che generalisti della testata di Agon News e vi lascio adesso alla continuazione alla buona continuazione con i programmi di Agon Channel una buona serata a presto